presidente manchini buongiorno grazie di essere qui con noi buongiorno a voi siamo un po a tirare le fila di questo 2019 siamo al 31 di dicembre però prima di tirare le file parliamo dell'emozione della festa dei 40 anni il galà di natale in cui si è festeggiato il quarantennale di fondazione della società c'erano tantissimi amici vecchi meno vecchi passato presente passato remoto sì sì è stata veramente un'emozione unica essere riusciti a unire tutto tutti amici come hai detto tu il passato il presente e avere anche il futuro del ciliverghe rappresentato dai nostri ragazzi è stata veramente un'emozione unica poter rappresentare io come presidente attuale i 40 anni di quello che è stata la nostra storia un orgoglio perché insomma penso che società dilettantistiche che abbiano 40 anni di storia non ce ne siano tanti e siamo orgogliosi di questo soprattutto magari non ce ne sono tante che in 40 anni hanno già compiuto passi così importanti un centro sportivo di proprietà che fa invidio tante società professionistiche è un realtà consolidata nel panorama nazionale con la serie di oltre a un paio al top regionale sì sì assolutamente sì è giustissimo quello che dici tu edo è anche vero che non dobbiamo fermarci perché nel momento in cui ci accontenteremo sarà l'inizio della fine di conseguenza dobbiamo sempre cercare di alzare la sticella non tanto magari come categoria anche se in futuro non si sa cosa potrà succedere ma proprio come prestazione come servizio che dobbiamo fornire a quello dei nostri tesserati ecco arriviamo questo ci dà lo spunto per parlare della stagione corrente allora prima di fare proprio un bilancio generale di questi 12 mesi concentriamoci sugli ultimi sei mesi con la stagione nuova siamo praticamente nella stessa situazione di 12 mesi fa un ambiente però diverso più conscio delle proprie potenzialità c'è meno magari fervore meno paura come la vede lei da presidente ma io diciamo che sono sempre avuto molta fiducia in quello che è il lavoro che stanno che sta facendo la prima squadra partendo dal nostro mister dal nostro staff che come abbiamo sempre detto come abbiamo ribadito anche agli auguri dei ragazzi resterà alla guida del ciliverghe fino a fine della stagione siamo molto consci come dire tu di quelle che sono le difficoltà siamo consci anche purtroppo anche un po di sfortune che abbiamo avuto durante quest'anno ma come a me piace non mi piace piangermi addosso dobbiamo cercare tutti insieme di unire le forze societariamente abbiamo fatto due inesti importanti e cercheremo comunque sempre di migliorare anche magari nell'apertura del mercato professionistico ancora qualche tassello comunque personalmente sono fiducioso della buona riuscita anche di quest'anno e del campionato ecco ciliverghe che finora magari a livello di punti un po stentato per una serie di motivi come diceva lei tra tra sfortune infortuni e via dicendo però la caratteristica di questa squadra è sempre proporre un gioco bello concreto un'identità forte e qui si vede anche la mano di un allenatore che tra l'altro sta prendendo anche il patentino UEFA quindi un altro motivo d'orgoglio della società che si sta crescendo l'allenatore in casa diciamo un allenatore che sa dare idee alla propria squadra sì sì ma penso che Pippo abbia e incarni bene quello che ci diverga abbia fatto tutto un percorso da giocatore adesso da allenatore e il fatto che nutre la fiducia totale della società non solo mia ma proprio di tutto il direttivo sta a significare il fatto che come hai detto tu incarni proprio anche il volere di quello che è la società che è naturale che deve portare la salvezza ma però anche portando una propria identità di gioco come nel resto facciamo anche con tutto il resto del settore giovanile ecco settore giovanile che quest'anno ha visto l'introduzione del settore femminile che è stato fortissimamente voluto da lei con Elisa Zizioli come responsabile tecnica Chiara Baroni sul campo ad allenare e anche l'introduzione di una figura a supporto del direttore Chiarini che si occupa più dell'aspetto sportivo di mercato e di formazione degli staff tecnici dalla responsabile tecnico il professor Pellegrini che cura la formazione degli allenatori e il lavoro sul campo. Sì sì hai ragione abbiamo fatto con questa introduzione partendo dal femminile che per me è stato comunque un fiore all'occhiello e una conclusione del percorso di crescita è sempre un'emozione ho partecipato anche alla loro pizza quando ci si ferma con le bambine forse perché hanno ancora di più di tutto il resto la giunità che noi avevamo una volta si si pongono proprio come un gioco è veramente bellissimo vederle e colgo l'occasione veramente per fare i complimenti a tutti i nostri responsabili sia vecchi sia nuovi partendo dalla Elisa si è introdotta nella famiglia Ciliverghi in maniera molto puntuale in maniera molto precisa sapendo esattamente quello che doveva fare mi ha detto presto stai tranquillo che vedrai che il percorso femminile arriverà qui e siamo a dicembre è arrivata e arrivata dove volevamo e francesco è veramente una persona che sto conoscendo piano piano una persona molto silenziosa che non esce mai delle righe però è molto puntuale nelle sue nelle sue precisazioni nelle sue indicazioni e penso che fosse una persona esattamente come Ciliverghi avesse bisogno cioè che ci facesse crescere dal punto di vista tecnico non è comunque trascurando quello che era il nostro credo perciò veramente persone importanti unisco anche a questo anche responsabile dell'attività di base Dotti che sta facendo anche lui un buonissimo lavoro lo possiamo vedere nel modo di giocare non nei risultati perché nell'attività di base i risultati sono secondari come giocano i nostri bambini concludendo naturalmente i complimenti ai nostri due direttori angelo chiarini per il settore giovanile e danilo facchinetti per la prima squadra un lavoro penso che ci porterà ulteriori risultati anche per il futuro ecco magari spendiamo due parole in più su su angelo perché nell'anno del quarantennale è giusto anche sottolineare la crescita che ha avuto negli ultimi 12 13 anni da quando è arrivato chiarini alla guida del vivaio proprio il settore giovanile un settore giovanile che è partito dal costruirsi le basi all'essere tra i top a livello regionale non solo provinciale ma regionale perché tutte le categorie dell'attività agonistica fanno all elite o quantomeno campionato regionale sì sì abbiamo allora il lavoro di angelo è partito da da tanto tempo fa e abbiamo raccolto i frutti gli ultimi anni angelo veramente uno di famiglia che dà tutto per il ciliverghe qualche volta magari facendo anche qualche errore come tutti noi però la passione che dà è inconmensurabile perciò veramente tanti complimenti a lui come hai detto tu siamo riusciti con la vittoria del campionato provinciale dei giovanissimi fascia b 2006 a completare i regionali 2006 faranno regionali b nel girone di ritorno o diciamo fase primaverile perciò abbiamo completato tutto quello che è il percorso non ci accontentiamo cercheremo di alzare ulteriormente la sticella ecco parlava di chiarini una persona che è qua da 12 anni Carobbio è qua da 6 Minelli è qua da 6 Tonoli Cristiano il team manager è qua da 7-8 è sempre un percorso a crescere dando fiducia alle persone che ci sono su cui si decide di puntare inizialmente questo forse un po' il segreto del ciliverghe per una crescita costante in questa crescita si inserisce anche la figura di Danilo Facchinetti al secondo anno in giallo blu si allora diciamo che per mia per mio modo di essere non mi piace cambiare le persone così così a random come dico io mi piace cercare di affiancarmi a persone che abbiano il mio stesso modo di pensare e con loro condividere un percorso è stato così con Eugenio Bianchini prima parlando di direttori sportivi penso sarà così adesso con Danilo anche per gli anni a futuri non sono contento di quello che stiamo seminando e del rapporto che ho con loro e con tutti spero veramente che questo possa continuare perché penso che la stabilità societaria anche da questi punti di vista sia comunque una cosa importante che di anche serenità a tutto quello che è il resto dell'ambiente perciò sì sicuramente sono molto contento di essere affiancato da tanto tempo dalle stesse persone. Non possiamo non nominare visto che stiamo più o meno toccando tutti i vari settori il direttore dell'area tecnica Beppe D'Innocenzi una figura che magari si vede poco ma è sempre molto presente. Sì sì anche lui è un po' come Francesco Pellegrini con le dovute differenze poco ma deciso nel senso anche lui fa i suoi interventi anche lui penso che sia ormai una persona dentro la quale il Ciliverghi sia entrato in maniera forte penso che ogni mese ogni anno che passa sia sempre più legato a Ciliverghi e questo insomma fa onore a una persona così importante e dal punto di vista anche storico del suo passato è quello che ha avuto il fatto che comunque abbia Ciliverghi nel cuore per lui è una cosa importante e fa a lui onore a questo. Abbiamo festeggiato i 40 anni adesso cosa ci cosa cosa si aspetta nei prossimi 40 ecco perché comunque nel breve c'è un cinquantennale che mancano dieci anni e poniamoci degli obiettivi per i prossimi dieci anni speranze. Diciamo che il tempo temporale è un po' lungo non lo so diciamo che quello che si vorrebbe la mia speranza è quella di un consolidamento di Ciliverghi nel panorama nazionale facendo una serie di sempre di alto livello penso che sarà importante per Ciliverghi riuscire a stipulare delle collaborazioni con società professionistiche importanti come del resto abbiamo anche con l'Inter per il settore giovanile anche per la prima squadra questo penso che questo potrà dare una stabilità forte a Ciliverghi e un consolidamento quello che è nel panorama di Serie D. Per il resto è difficile qui nel mondo del calcio le cose cambiano in maniera talmente rapida che fare una prospettiva di dieci anni non lo so. Quello che posso augurarmi è solo il bene del Ciliverghi. Quello che io spero è che qualunque persona entra a Ciliverghi abbia Ciliverghi nel cuore come abbiamo tutti noi ma proprio tutti 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 perché solo così riusciremo a fare il bene del Ciliverghi. Qualsiasi presidente qualsiasi direttore entri spero che abbiano questo come primo come primo obiettivo perché comunque un po' nostro segreto. Tu vedo hai presentato benissimo durante la festa tutti quelli che sono stati i miei predecessori e come abbiamo detto sono tutti legati da un comune denominatore proprio il cercare di fare il bene del Ciliverghi non mettere la propria figura davanti a tutto il resto ma proprio diciamo avere l'obiettivo del bene del Ciliverghi. Questo è il mio augurio insomma che chiunque venga possa avere questo come obiettivo e continuare la dinastia di quello che è il Ciliverghi. Voler bene al Ciliverghi di riflesso vuol dire bene al comune di Mazzano comunque perché è una società a disposizione sempre del comune di Mazzano fa tanto per il territorio. Sì diciamo che quando due persone si vogliono bene devono esserci in te scambio cioè noi dobbiamo voler bene al comune e il comune deve voler bene. Noi penso che con il comune abbiamo un buon rapporto come tutte le cose si possono migliorare e speriamo che anche questo connubio con la nuova amministrazione che è entrata qualche mese fa possa continuare per questo. Sicuramente anche dal punto di vista sociale noi abbiamo 300 bambini penso che siamo un punto di riferimento con orgoglio per quello che è il panorama del comune insieme anche comunque ad altre società. Perciò sì speriamo che il connubio comune Ciliverghi possa continuare bene. Ecco siamo quasi in chiusura. Avevamo aperto l'intervista dicendo che avremmo fatto un bilancio di questi 12 mesi. I primi 6 mesi possiamo definirli esaltanti per quella cavalcata della prima squadra che ha trascinato poi il vivaio a una partecipazione enorme alle partite con il vivaio che è diventato una spinta importante per la prima squadra, proprio un dare avere importante all'interno della famiglia poi c'è stato il periodo estivo, cambiamenti anche a livello societario, l'ingresso del nuovo direttore generale Marchesini e poi la prosecuzione di quel progetto avviato l'anno scorso nei questi ultimi 6 mesi in cui magari la mancanza di risultati ha oscurato un po' quello che la società sta facendo per la propria crescita. Sì è stato un anno di alti e bassi diciamo così però io penso che il bilancio del 2019 deve essere considerato positivo perché come hai detto tu Edoardo abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo fatto il femminile, abbiamo fatto e qui dobbiamo dirti grazie anche a te un torneo femminile internazionale di primo ordine abbiamo ricevuto i complimenti da tutti, la prima squadra come la tu si è salvata benissimo abbiamo inserito comunque dei ragazzi del nostro settore giovanile in prima squadra in maniera stabile sono tutti comunque aspetti di crescita, certo quello che si voleva, si sperava e avere qualche punto in più a dicembre diciamo avere un po' più di ossigeno per poter già programmare in maniera più tranquilla quello che è il futuro però questo momento, questa è la situazione che ci troviamo e andiamo avanti in maniera serena consapevoli di quelle che sono le nostre possibilità e di quello che è il nostro futuro col massimo impegno da parte di tutti. Con quella serenità che contraddistingue l'ambiente Ciliverghe Presidente è il momento di fare gli auguri, il Natale ha le spalle, ce l'hanno nuovo alle porte, uniamo le due cose Gli auguri di Natale, passato e di un buon 2020 deve essere la prima cosa gli auguri, la salute, la serenità devono essere quello che contraddistingue innanzitutto tutte le nostre famiglie noi come Ciliverghe cerchiamo quando i nostri ragazzi vengono dentro nel nostro centro sportivo di dare la nostra serenità e dare quello che possiamo dare perciò l'augurio è veramente che sia un 2020 sereno per tutti e principalmente ricco di salute per ogni famiglia Presidente, grazie e tanti auguri Grazie mille a voi